Sono Roberta Pagni, presidente CNA Estetica della provincia di Arezzo. Volevo fare un nuovo appello nell'attesa di riaprire, con il prossimo DPCM ci auspichiamo di diventare zona arancio e possibilmente velocemente passare a quella gialla. Abbiamo però delle gran problematiche che si possono risolvere in questo momento con una semplice autocertificazione per le nostre clienti, per gli spostamenti da comune a comune, per non penalizzare le nostre clienti e ulteriormente le nostre attività. Preghiamo inoltre di non rivolgersi alle abusive che sfuggono a qualsiasi attività di controllo e vigilanza, mettendo a rischio la salute di tutti. La chiusura dei centri estetici e dei trattatori c'è poco comprensibile in quanto da anni si lavora in estrema sicurezza, adottando tutti i dispositivi e la tutela per i nostri utenti. La categoria è fortemente in difficoltà e chiediamo di lavorare in sicurezza come al solito e chiediamo agevolazioni veloci e sostanziose. Grazie.